Con la posizione degli ultimi elementi di arredo e la sistemazione degli spazi a verde, la passeggiata di Levante a Trani è realtà. L'intervento è stato finanziato interamente con fondi ottenuti con il bando Gal-Po-Feamp 2014-2020 per interventi di riqualificazione, tutile e valorizzazione di aree marine e costiere. Il progetto, finanziato attraverso il Gal-Ponte Lama, ha consentito la valorizzazione della cosiddetta seconda spiaggia, mediante il recupero dello spazio aperto e nel rispetto del paesaggio. Il progetto urbano rilegge e potenzia la trama naturalistica caratterizzata dal percorso lungo il mare e quello dall'accesso della strada statale che collega Trani e Biceglie. Iniziamo da qui, iniziamo da quello che è stato fatto anche per dare valore alle cose fatte, alle persone che ci hanno lavorato, a quanto abbiamo creduto di creare un luogo, un nuovo luogo che è questo in cui stiamo, in cui ci troviamo. Questa barca, nella testimonianza, vuole essere appunto anche una nuova agora sul mare dove cominciare a spostare, ad allungare sempre più la città. La vogliamo allungare attraverso quindi un progetto molto sicuramente, molto chiaro, che porta ad una grande ricucitura di quella che praticamente è il centro, la costa urbana, con tutto questo percorso naturalistico che porterà a Biceglie. Seconda spiaggia e non solo, il sindaco ha illustrato quelli che saranno i prossimi passi della riqualificazione dell'aria. Oggi inauguriamo qui ma di fatto io credo che già a metà agosto appalteremo la prosecuzione, arriveremo sino praticamente fin dove è possibile, cioè costeggiando il Lido Matinelle. Quindi quest'opera, più o meno disegnata già in questo modo, proseguirà esattamente come è stata pensata, assolutamente bella, sino praticamente così alle matinelle. E questo sarà il secondo step, il terzo e il milione e nove della parte crollata. Una volta giunte a compimento tutte le opere, tra nisi e non, potranno godere di una zona unica per le sue caratteristiche e la sua bellezza. Credo che lo dobbiamo ai nostri figli, ma anche ai nostri genitori, per quanto non sono riusciti neanche ad accedere in quel tratto di costa, che lasciatevelo dire è, credo, il punto più bello, non solo della nostra città. L'ho detto l'altro giorno al sindaco di Biceglie, anche probabilmente del mare di Biceglie, che è pure fantastico. Ma le conche sono un'area meravigliosa.